A comprendere il più a fondo possibile. Cerchio Ifior attraverso Tuglia e Gian, Scifo. Così apparentemente, per chi vuole osservare le nostre parole nel corso degli anni, esse sembrano rivelarsi inconcludenti. Infatti, colui che non ha ancora compreso la base dell'insegnamento che andiamo portando, penserà senza dubbio che le nostre contraddizioni si stanno facendo sempre più rilevanti. Se infatti era stato un punto fermo di ieri quello di chiedere ad ognuno di coloro che si avvicinavano al cerchio e quindi all'insegnamento di aprirsi agli altri, ecco che ora questo aprirsi agli altri viene tramutato in un stare attenti ad aprirsi agli altri, sicché potrebbe appunto sembrare un completo ribaltamento di quanto avevamo detto fino a questo momento. In realtà, e penso che chi ha un minimo di fiducia in noi possa aspettarselo, le cose non stanno esattamente in questo modo. Infatti, come già più volte è stato detto, la richiesta di aprirsi agli altri, così come gli altri valori morali che sono stati posti nel corso dell'insegnamento etico, era in fondo una delle mete a cui arrivare, non una posizione raggiunta o raggiungibile in un attimo, col solo stare ad ascoltare le parole che noi avevamo portato. Ma cosa c'è dunque di diverso? Cosa c'è che forniva una base da comprendere per poter meglio mettere in atto l'aprirsi agli altri? La base, come sempre, finisce con l'essere il conoscere se stessi. Questo imperituro proclama che da secoli, da millenni e da ogni dove viene portato all'uomo affinché non se ne dimentichi che, un poco alla volta, inizi veramente a metterlo in atto. Infatti, colui che non conosce se stesso, allorché si apre incondizionatamente agli altri, senza appunto avere idea della propria interiorità, corre il rischio, direi pressoché inevitabile, di finire col fare dei grossi errori, di finire col turbare altre persone, di finire con l'impedire il nascere di amicizie, di finire col far sì che i rapporti umani, un po' alla volta, degenerino. Questo perché l'aprirsi agli altri comporta sincerità e la sincerità non sempre e da tutti è facilmente accettata. L'individuo, invece, che conosce buona parte almeno della sua interiorità, si aprirà soltanto con le persone che saranno in grado di comprendere ciò che lui andrà portando. E questo non per un pensamento, per una meditazione, per un ragionamento e via e via e via, ma sarà un'aprisi spontaneo nel momento giusto e con la persona giusta. Questa è la verità che sta alla base dell'insegnamento ed è non tenendo conto di questa base che quanto noi andiamo dicendo per questo tipo di argomento può venire interpretato come una contraddizione di logica. Io vi invito tutti, creature, a cercare di meditare un po' di più su quanto noi siamo andati dicendo, su quanto diciamo e su quanto diremo, poiché tendete tutti quanti con facilità a fermarvi al messaggio dell'oggi senza comprendere che tutto l'insegnamento, messaggio dopo messaggio, è collegato e che soltanto tenendo a mente, o meglio ancora, tenendo interiormente tutto l'insegnamento, si può riuscire a trarre le giuste conclusioni, a vedere le giuste connessioni e a comprendere il più a fondo possibile ciò che noi andiamo dicendo.